Praticamente tutto il percorso, che avrò dovuto dare solo l'avvio al progetto, in realtà l'hanno proprio supportato in maniera molto significativa, costante e appassionata, io direi. Nel quadro dell'alternanza, che è quello che diventa diretto contatto col mondo del lavoro, e che vuol dire? In modalità Tecnasio, in collaborazione con l'azienda Dimension, rappresentata da Dottor Peltrini. Le particolarità di questo progetto sono la metodologia di lavoro, che ha i suoi punti di forza nell'autonomia dei team, e il processo di autovalutazione, che è stata la prima cosa del progetto, e che verrà effettuato alla fine del progetto. Riteniamo che il Tecnasio sia un'anticipazione più che ottima a quello che ci può aspettare in un ambito lavorativo. Durante la nostra esperienza ci stiamo potuti confrontare con...